E... azione. Siamo in diretta e sorpresa! Siamo sul set del nuovissimo video del mio ragazzo. Jordan! Che state facendo? No, per favore, niente panico. Non hai potuto farmi questo, è finita, ok? Spongiati! Sei ancora in diretta? Rompere un rapporto è difficile. Sono stata umiliata. Stai diventando virale nel modo sbagliato. Così andranno meno? Sono un genio del makeover. Quando l'ho conosciuto era 55 kg di capelli schifosi. Perché non crei un altro Jordan? Creerò il prossimo re del ballo. Detto così sembra facile. Credi che non sia in grado? No, ma sarà divertente vederti provare. Una scommessa. Va bene. Per non renderti troppo facile la cosa, sceglieremo noi, ragazzo. E lui? Cameron Queller, credo. È un disastro su tutti i fronti, strano, asociale. Non voglio fissare le tue mutande mentre mangio, fesso di merda. Fantastico. Cameron, ciao. Speravo tanto di fare una lezione di equitazione, dato che noi due siamo amici. Amici? Nel senso che andiamo alla stessa scuola. È una definizione un po' vaga, non credi? Niente male. Non puoi godertelo senza condividerlo con 500 estranei. Catturo il momento. Perché? Che schifo! Scusa. Chi è il nuovo ragazzo? Un po' trasandato, ma carino. Aspetta che abbia finito con il suo makeover. Non è sicuramente quello che mi aspettavo. In te c'è più di quello che lasci trasparire. E se a me andasse bene così? Ti stai innamorando del nostro progetto? Le cose non sono sempre come sembrano. Era una scommessa, andate all'inferno. Ho fatto un casino, mamma. È un errore solo se non impari qualcosa. Le cose con Pudgett si sono complicate un po' più di quanto pensassi. di quanti le cose con Pudgett si sono complicate un po' più di quanto pensassi. Grazie a tutti